Il giornalerà, il Vivi di Centro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollono. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E anche di chi deve rientrare, sempre per lo stesso motivo, quindi non è solo il cittadino ma anche questa particolare fascia di eventi. Vi ringrazio molto di quello che fate, un lavoro prezionale possibile e noi lo stiamo facendo. Vi ringrazio veramente. Chiariamo un dato e quindi... Pronto? Buongiorno. A te le secondo me interessanti, sono un rappresentante... Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.